benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono di quella guardo e ho visto una cosa che volevo vedere eh come era? ma c'è una... ah ok vediamo perchè c'è Shifu? vabbè abbiamo stra partita ma ok te lo so schieretevi al canale vediamo la campanellina e finchiamo soltanto il gioco dai perchè alla forza dei mille uomini e più serrabbia più mostra ai muscoli li fermerà l'incredibile Hulk scusate ragazzi e io dicevo la stansigla bene allora facciamo eh sta partita ah cozzo cozzo come sto microfono perchè è la forza dei mille uomini e più serrabbia più mostra ai muscoli e chi fermerà l'incredibile Hulk non ci ho un pere vabbè vabbè vuoi la vendicando la file devo a vinciderlo l'incredibile Hulk l'incredibile Hulk l'incredibile Hulk lui è Hulk lui è Hulk perchè lo costruisco a caso perchè lo costruisco a caso ma che buco di culo ma che buco di culo ma che buco di culo vuoi ma ma squadra l'incredibile Hulk ugo la mia l'incredibile ma chico perchè si chiama chico non è quello vgf ve lo dico perché alla forza di mille uomini e più si arrabbia più mostra i muscoli perché alla forza di mille uomini esistano i più mostri l'immigibile uomini wow anima si se tante uno e se santo sono un co**o PACO DIO no 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 io la rifaccio non voglio fare non voglio veramente la croce napoletana c'è la tarantella napoletana pop 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 forza Perchè una forza di mille uomini, perchè una forza di mille, 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 perchè 4 perchè ha la forza di mille uomini e pisare a capi mostra il mezzo la incredibile il fa il fin il fa il filo il Grazie a tutti. 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 Oh... Oh... Secondo me... Beccherò... ... 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